Siamo qui in compagnia di Eugenio Allegri, regista dello spettacolo Teatro Comico, prodotto da PPTV e Teatro Stabile del Veneto. Eugenio, che cosa significa per te mettere in scena un testo di questo tipo in questo periodo storico, cioè un testo che parla di teatro e di attori? Beh, è una sfida epocale farlo adesso, perché in questo momento in cui gli attori fanno fatica a tornare sul palcoscenico, anzi siamo un po' gli ultimi attori, registi, maestranze, tecnici, scenografi, costumi, siamo proprio un po' gli ultimi, saremo gli ultimi a ripartire, sfidare un po' la sorte e mettere in scena il Teatro Comico di Goldoni, che ipotizza il nuovo teatro e quindi significa un po' essere nel presente artistico, poetico, politico nel nostro tempo, perché in questo momento stiamo approfittando più o meno tutti noi teatranti di questa fase di sospensione, proprio per cominciare a pensare al futuro del teatro. Probabilmente se non fosse successo tutto questo avremmo continuato a inseguire un po' arrovellandoci dentro i nostri trascorsi e quindi un po' aggomitolati dentro il teatro così come fino adesso l'abbiamo pensato e immaginato, anche se ci sono già stati i linguaggi che si rinnovano ormai da tempo, non so. Però adesso siamo un po' obbligati, questa pausa ci fa riflettere profondamente e forse ci fa scoprire l'esigenza ancora più che in altri momenti del dover pensare a qualcosa di nuovo e questo invito che arriva dal Teatro Comico è un invito che per quanto antico nella sua scrittura di 270 anni fa apre degli spazi di modernità, di attualità che vanno assolutamente sfruttati e quindi con questa riflessione che è venuta un po' strada facendo, visto che Goldoni in questa prefazione, lui chiama il teatro Comico una prefazione, quindi con tutti i presupposti mancanti per fare teatro, in realtà poi dentro gli spazi per teatralizzare quello che lui scrive ci sono ampiamente e c'è questa considerazione del fatto che lui dice all'inizio io ho sempre guardato a due realtà, il teatro e il mondo, ma adesso in questa nostra essenza di questi tempi credo che si possa dire tranquillamente per quello che sta succedendo che il teatro sia il mondo, la nostra realtà rispecchia automaticamente tutto quello che è il mondo fuori dal teatro e quindi siamo doppiamente autorizzati. Grazie mille.